Rossini TV compie 5 anni Terremoto, altre due intense scosse nella notte Punto nascite a Pesaro, dubbi sulla piena operatività Sequestrati 500 uccelli catturati illegalmente Con 4 anni d'anticipo, Marchi Multiservizi supera i traguardi europei sul riciclaggio Buonasera a tutti voi Questo è il primo telegiornale di dicembre, un mese particolare Perché dà il via al sesto anno di Rossini TV La nostra emittente ha infatti festeggiato ieri sera il suo quinto compleanno Cinque anni in cui vogliamo ringraziare voi telespettatori Per il seguito e l'apprezzamento quotidiano che ci date costantemente Proprio a questo compleanno vogliamo dedicare oggi la copertina del nostro telegiornale Rossini TV spegne 5 candeline Quinto compleanno ma anche il primo nella rinnovata veste di Canale 80 Che ci accompagna dallo scorso marzo Mercoledì 30 novembre è andato in scena un momento conviviale Per fare festa con lo stesso filo conduttore che ha accompagnato i precedenti anniversari Quello di ritrovarsi nell'accogliente quartier generale delle celebrazioni di Casa Poderosa Quello di farlo in compagna di sponsor, amici e istituzioni del territorio Che ci hanno accompagnato nel crescere e migliorare Quel lavoro avviato cinque anni or sono da Emanuela Rossi e Andrea Marcelli Era il 2017 quando io e Andrea Marcelli abbiamo deciso di creare questa emittente per il territorio Quindi per la provincia di Pesaro Urbino e per la regione Marche E in questi cinque anni per fortuna il pubblico ci ha seguito tantissimo Ogni anno il pubblico che ci segue cresce sempre di più E crescono sempre di più i clienti che voglio ringraziare Che questa sera una parte insomma li vedrete partecipare a questa festa Io ogni anno Francesca creo questa festa non solo per festeggiare il compleanno di Rossini TV Ma per ringraziare i clienti, per ringraziare lo staff professionale di cui io sono molto orgogliosa E chiaramente per far vedere tutti i programmi che stiamo facendo e realizzando A Casa Poderosa una serata trascorsa in allegria Guardando a quanto è stato realizzato da Rossini TV e quanto ancora si farà Dall'informazione ai programmi di intrattenimento, dagli approfondimenti ai video aziendali Il tutto accompagnato dalla trascinante simpatia dei nostri Nicoletta Tagliabraccia e Paolo Pagnini Che hanno accompagnato la festa con la divertente lotteria Che ha elargito regali natalizie ai presenti Grazie alla generosità degli amici sponsor che hanno donato i loro prodotti aziendali Rossini TV festeggia il suo quinto compleanno E ora varca la soglia di un sesto anno da vivere sul canale 80 Vedendo e rivedendo tanti programmi che hanno contrassegnato questi 12 mesi Green Tour insieme a Canestro, Fix Fit, Check Up Obiettivo Salute, Spazio Z Pesce Azzurro Quiz Show e l'ultimo nato ci inviti a cena Natale però ha già in serbo altre novità Chiaramente anche nel periodo natalizio Rossini TV porterà avanti l'informazione La rassegna stampa, il telegiornale Vedrete tanti programmi di intrattenimento con il San Costanzo Show Ma soprattutto Roberta, la nostra Roberta, si è cimentata in Aspettando il Natale con Roberta Un programma dedicato ai bambini che appunto li accompagnerà per tutte le vacanze natalizie E dunque vi diamo appuntamento a martedì 6 dicembre alle ore 21 e 20 Per vedere in versione integrale le celebrazioni del nostro compleanno Con le interviste ai tanti ospiti presenti Ed ora passiamo alle notizie cominciando da un evento che è nostro malgrado Sta caratterizzando l'ultimo mese del nostro territorio Dopo il forte terremoto del 9 novembre lo sciame sismico non è infatti mai cessato Ma dopo diversi giorni ad intensità ridotta Questa notte si sono registrate due scosse di magnitudo 3.4 e 3.2 Rispettivamente a luna di notte e alle 5.45 del mattino L'epicentro resta a quello a 20 chilometri dalla costa fanese Localizzato a 10 chilometri di profondità A pochi giorni dalla data annunciata mesi fa È ancora in attesa di conferme ufficiali La riapertura del 5 dicembre del Dipartimento Materno Infantile dell'ospedale di Pesaro Chiuso ininterrottamente da marzo 2020 Un argomento sul quale i consiglieri regionali Andrea Biancani e Micaela Vitri Interrogano la Giunta in merito a quello che sarà l'effettiva operatività di questa riapertura Insieme alla consigliera Vitri abbiamo presentato un'interrogazione urgente Rispetto alla riapertura del Dipartimento Materno Infantile di Pesaro Ovviamente ritengo che non debba essere assolutamente messa in discussione La riapertura già annunciata per il 5 dicembre Ma soprattutto si chiedono garanzie rispetto alla piena operatività Cioè è giusto riaprire il reparto ma è giusto che ci sia la piena operatività Ovvero che funzioni come funzionava prima del Covid Il presidio di Pesaro è un presidio di eccellenza Un riferimento per tutto il territorio E mantenere chiuso Pesaro è veramente un grave errore Inoltre voglio dire che è sbagliato sicuramente mettere in contrapposizione Come è stato fatto in queste ultime settimane La città di Pesaro con le altre città della nostra provincia Anche perché la Regione ha già detto che è deciso di mantenere aperte Tutti i presidi ospedalieri Cioè quello di Pesaro, quello di Fano, quello di Urbino, quello di Pergola E quindi è giusto che mantenga la piena funzionalità di tutti i reparti Che questi ospedali hanno Io ritengo che un eventuale rinvio della riapertura Non possa far altro che mortificare le tante famiglie Che da anni subiscono questo disagio Perché ovviamente è venuto meno uno dei servizi di eccellenza Che il nostro territorio, l'ospedale di Pesaro, riusciva a dare Ma soprattutto un reparto che aveva un bacino di utenza Che andava al di là di Pesaro Perché era un riferimento sicuramente per tutto il territorio provinciale E che evitava anche la mobilità passiva verso l'Emilia Romagna A tutt'oggi e se ad esempio ci sono delle complicazioni Durante il parto nell'ospedale di Fano Sia le mamme che ovviamente il bambino Vengono portati all'ospedale di Pesaro Perché l'ospedale di Pesaro è in grado comunque di dare risposte multidisciplinari Avendo come dire, essendoci la rete dell'emergenza urgenza In particolare il reparto di chirurgia, urologia, emodinamica Il centro trasfusionale Servizi che a Fano non ci sono E quindi Pesaro è un riferimento a livello provinciale Non solo per quanto riguarda dei casi magari particolari E devo dire che mi stupisce che sia proprio chi oggi guida il reparto Dichiarare che l'ospedale di Pesaro e di Fano Sono in grado di fornire le stesse prestazioni Ovviamente io per quanto mi riguarda Devono rimanere aperti tutti i presidi Quindi sia quello di Pesaro, sia quello di Fano Che quello di Urbino Anche perché nella strategia che la regione ha in qualche modo portato avanti Prevede appunto il mantenimento di tutti i presidi, di tutti i servizi Ricordo che da quando il reparto di Pesaro è stato chiuso C'è stato anche un aumento del 20% della mobilità passiva Cioè comunque molte famiglie, molte mamme decidono di andare a partorire in Emilia Romagna Questo provoca dei costi, aumento dei costi della mobilità passiva E quindi sarebbe veramente assurdo non riaprire il reparto di Pesaro Ma soprattutto non metterlo nelle condizioni di essere completamente funzionale 505 uccelli da richiamo catturati illegalmente Questo è il risultato dell'indagine portata avanti a livello nazionale Dalla procura della Repubblica di Urbino Che ha portato a 6 denunce Le indagini sono durate oltre 10 mesi Per poter risalire ad allevatori e commercianti di uccelli Coinvolti nell'attività venatoria Che risultano indagati per furto aggravato ai danni dello Stato Ricettazione e detenzione illegale ai fini commerciali di fauna selvatica Indagati dalla provincia di Pesaro ma anche di Emilia Romagna e Friuli Che sono risultati al centro di un traffico in cui secondo l'ipotesi accusatoria I volatili venivano catturati in natura durante il periodo della migrazione Per poi essere regolarizzati con apposizione di anelli infilzati forzatamente nelle zampe Cagionando pure lesioni agli arti Una pratica vietata effettuata con reti e richiami Che portava a catturare questi esemplari e a venderli ai cacciatori Ottenendo profitti di migliaia di euro Considerando che Tordi e Merli venivano messi in vendita a circa 200 euro l'uno Marche Multiservizi ha presentato oggi il suo report annuale Sull'andamento del riciclo dei rifiuti Risultati che come vedremo portano il nostro territorio a livelli di qualità Che superano in anticipo di 4 anni gli standard richiesti dalla comunità europea Per fare la differenza serve un'ottima differenziata Un mantra di Marche Multiservizi che correda a pennello i risultati esposti oggi Nella nona edizione del report annuale dell'azienda Un dato spicca su tutti Nel 2021 il riciclo complessivo dei rifiuti che tiene conto di materiali differenziati e indifferenziati È arrivato al 58% superando con 4 anni di anticipo L'obiettivo fissato dall'Unione Europea del 55% per il 2025 Credo siano motivi d'orgoglio non solo per l'azienda, per noi, per tutti quelli che lavorano Ma anche per i soci e per i cittadini Insomma fanno fatica, si impegnano nella raccolta differenziata Nel corretto conferimento e questo ha dei risultati Quindi quello più importante è questo, è quello di aver raggiunto gli obiettivi europei Non solo traguardi, anche qualità Nel 2021 la raccolta differenziata del territorio servito da Marche Multiservizi si attesta infatti al 73,5% È stato recuperato il 93% del verde raccolto È stato riciclato il 92% della carta Il 91% dell'organico Il 92% di metalli e vetro Il 95% del ferro E addirittura il 100% del legno Per quanto riguarda la plastica è stato recuperato il 53% Confermando che si tratta del materiale più complesso da gestire con un'azione efficace Dal particolare al generale Rispetto all'86% della raccolta differenziata avviata a recupero L'84% è stato riciclato Mentre il 2% è stato convertito in energia Risultati frutto di strategie che vengono da lontano Sul tema dei rifiuti ci siamo posti fin dall'inizio il tema della sostenibilità in un modo serio Concreto A volte siamo stati attaccati perché i nostri risultati miglioravano però non in modo eclatante Però in modo costante Non siamo mai stati di quelli che hanno fatto le performance dal 50% all'80% Ma abbiamo avuto una costante gradualità di incremento della raccolta differenziata Quindi in un modo statico e costruttivo Abbiamo puntato molto sul tema della sensibilizzazione ai cittadini Agli stakeholder In modo tale da creare sempre di più un certo tipo di consapevolezza e di sensibilità sul tema ambientale Questo ci ha portato dei grossi risultati Sulla strategia abbiamo avuto modo di sperimentare e dimostrare Che il nostro modello misto di prossimità e raccolta domiciliare solo di differenziato È un modello che comunque è vincente Sia dal punto di vista del contenimento dei costi per i cittadini Sia dal punto di vista della raccolta differenziata in termini percentuali Buoni risultati ma non ci si vuole fermare Il tasso di riciclo degli imballaggi si attesta al 62% E guarda già all'obiettivo del 65% fissato da Bruxelles per il 2025 Dobbiamo differenziare meglio perché anche da questo punto di vista Siamo sopra gli obiettivi europei Insomma siamo quasi al 74% Quindi si può fare di più da questo punto di vista Ma si può anche differenziare meglio Perché poi c'è un 30% di rifiuto differenziato Che può essere a sua volta ancora di più raccolto Per cui invitiamo a fare un salto di qualità ai cittadini e alle famiglie Da questo punto di vista Quindi essere ancora più attenti sui materiali Come vanno conferiti, come vanno riciclati Un riciclo di qualità che non ha benefici solo ambientali Ma anche nelle bollette degli utenti Il recupero, il riutilizzo, il riciclo dei materiali raccolti È importantissimo dal punto di vista della sostenibilità Ma ovviamente questo produce anche un riscontro economico per le bollette Spesso non c'è la corretta percezione da parte delle famiglie Di qual è questo tipo di recupero Noi nel report l'abbiamo quantificato È quasi 30 euro a famiglia, quindi a bolletta Che più o meno indicativamente è circa un 12% di quello che è il costo della bolletta Per cui c'è un riscontro effettivo su le buone pratiche Che le famiglie mettono in campo Parliamo ora di Caro Energia Argomento particolarmente delicato per gli enti pubblici E che incide pesantemente sui bilanci delle amministrazioni La provincia di Pesaro Urbino oggi ha tenuto un convegno Per analizzare le nuove possibilità di risparmio Attraverso strategie di efficientamento energetico Il Caro Energia è un tema indiscutibilmente pressante in questo inverno Lo è in maniera particolare per le amministrazioni pubbliche Che sono alle prese con bollette esorbitanti Che incidono su bilanci comunali o provinciali È il caso ad esempio della provincia Che oggi mette a un tavolo tanti interlocutori Per affrontare il tema delle nuove frontiere del risparmio energetico Un convegno alla presenza di amministratori Ingegneri, geometri, docenti Per capire quanto è stato fatto finora E quanto ancora si può realizzare Sta emergendo una situazione di grande necessità Di intervento sugli edifici pubblici Finalizzati questi interventi A efficientare gli edifici E anche alla produzione di energie rinnovabili Per abbattere gli enormi costi che adesso ci troviamo tutti ad affrontare A seguito dell'aumento del costo dell'energia Che sta sottorendo risorse nei bilanci Risorse di parte corrente Che hanno un impatto pesante sulla gestione degli altri servizi Dei servizi vari Per quel che riguarda i comuni Soprattutto nella gestione anche del welfare Che richiederebbe oggi maggiori risorse Ma queste risorse purtroppo diminuiscono Proprio a seguito dell'aumento considerevole di questi costi dell'energia Parte integrante dell'organizzazione del convegno La società Renergy SRL Renergy è una società che è nata nel settore della riqualificazione energetica In virtù delle esigenze che esistono Soprattutto in questa fase finale che stiamo vivendo Perché con l'aumento delle bollette energetiche La necessità di riqualificare gli immobili Siano esseri pubblici che privati Aumenta in modo esponenziale L'incontro di oggi è volto alla riqualificazione degli edifici pubblici Sfruttando anche quelli che sono gli incentivi Che lo Stato e gli enti mettono a disposizione della pubblica amministrazione I fondi del PNRR Che sono dei fondi in pratica che vanno ad incentivare Gli interventi di riqualificazione energetica Vari interventi ma soprattutto quelli di riqualificazione energetica Quindi sulla base di questa necessità è nata Renergy L'incontro di oggi è stato organizzato dalla Renergy In collaborazione con la provincia Per sensibilizzare quella che è la pubblica amministrazione Su A parte l'esigenza che hanno gli immobili Di essere riqualificati Ma questa è una esigenza che già conoscono Ma soprattutto Spiegargli in che modo possono essere riqualificati Gli immobili e quali sono gli strumenti economici Per poter far questo Per consentire alle amministrazioni di poter riqualificare i loro fabbricati Per abbattere il costo delle bollette Che sta diventando un costo molto elevato Difficilmente sostenibile Se questa situazione di disagio si dovesse protrarre nel tempo Territorio ancora indietro rispetto al tema dell'efficientamento energetico Ma non più indietro della media nazionale Anzi si scorgono già dei buoni esempi di pratiche virtuose Abbiamo La ricordata anche la responsabile del GSE Anche delle situazioni di eccellenza Perché sia il Comune di Pesora che la provincia di Pesora Hanno fatto interventi sugli edifici scolastici di eccellenza Quindi hanno realizzato edifici che sono a costo energetico quasi zero Quindi abbiamo già delle eccellenze sul territorio L'importante è cercare di diffondere queste eccellenze E poi tutto il resto del territorio E quindi accelerare questa corsa verso l'innovazione Quindi l'efficientamento degli edifici e la produzione di energia Si conclude domani, venerdì 2 dicembre Il ciclo di incontri di Abete ieri, oggi, domani Che da settembre ha fornito dibattiti e approfondimenti sulla patologia Vediamo il contenuto dell'ultimo appuntamento Che si etterrà a Villa Borromeo Si conclude il ciclo di conferenze Diabete ieri, oggi, domani Organizzato dall'Associazione Diabetici di Pesaro Venerdì 2 dicembre alle ore 18 L'ottavo e conclusivo incontro a Villa Borromeo Prevede la presenza di Mara Mussoni Che presenterà il suo ultimo libro Coaching oncologico Prendi la strada per la tua guarigione Con lei anche Silvia Gambini e la sua aromaterapia per affrontare l'inverno Il medico internista Silvia Manfreni di Asur Area Vasta 2 E il diabetologo Luigi Maggiulli dell'azienda ospedaliere Marche Nord Con diabete e stile di vita A seguire la cena di auguri natalizi A chiusura di due mesi e mezzo di proficui E partecipati approfondimenti sulla patologia Domani, venerdì 2 dicembre alle ore 11 Verrà presentato ai musei civici Il basso rilievo dell'incoronazione della Vergine di Giovanni Bellini Con descrizioni in braille e a carattere ingrandito L'intervento rappresenta la fase conclusiva di Musei a Contatto Progetto realizzato dall'Unione Italiana Ciechi e i Povidenti di Pesaro Urbino Con il sostegno dei fondi 8x1000 della Chiesa Valdese E la collaborazione del Comune di Pesaro Si tratta di un intervento che rappresenta un punto di incontro Fra cultura e inclusione Che sarà seguito dalle nostre telecamere E che vi mostreremo in uno speciale che andrà in onda su Rossini TV Martedì 6 dicembre alle 20.10 Ed è stato presentato presso la sede della Regione Marche Il raduno internazionale di Speleologia Risorgenze Che si terrà a Cagli dal 7 all'11 dicembre In 5 giorni ci saranno ben 75 presentazioni 13 tavole rotonde, lavoratori e oltre 10 strutture coinvolte In un territorio che diventerà il cuore pulsante della Speleologia nazionale Sabato 3 e domenica 4 dicembre Gradara ospiterà l'evento enologico Ars Vini Una degustazione di vini del territorio In collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier di Pesaro Al centro dell'evento 8 cantine del territorio come Bruscia, Bucchini, Conventino, Selva Grossa, Sorrico, Terra Cruda, Santi Giacomo e Filippo, De Leiva Le degustazioni saranno dalle ore 11 alle ore 19 Al portico dell'ex corpo di guardia E concludiamo con lo sport Occupandoci di calcio a 5 Con l'Ital Service chiamata in una settimana Alla seconda lunghissima trasferta Si cambia isola dopo il 3 a 3 di Catania Sabato la squadra del presidente Pizza Vola in Sardegna per cercare di ritrovare la vittoria Dopo la Sicilia per l'Ital Service Pesaro è tempo di volare in Sardegna Dopo il 3 a 3 sul parchè della Meta Catania Arrivato venerdì scorso I Biancorossi andranno a far visita al Monastir Sabato 3 dicembre alle 15.15 Ai ragazzi di Mister Colini è richiesta una prova d'orgoglio Visto il solo punto ottenuto nelle ultime due sfide E una classifica che per la prima volta negli ultimi tre anni Li vede in ritardo di 15 lunghezze dalla prima L'Ital Service di fronte avrà un Monastir reduce da una vittoria scacciacrisi Arrivata dopo 4 sconfitte consecutive Trovandosi attualmente a 12 punti a più 3 dai Biancorossi All'appuntamento di sabato non ci sarà De Oliveira Espulso in Sicilia Ma Mister Colini potrà contare sull'ultimo acquisto ufficializzato mercoledì Davide Putano, l'estremo difensore che si è aggregato alla squadra nelle ultime ore Indosserà i colori Biancorossi per la prima volta Quella di sabato è l'ultima sfida in programma Che separa l'Ital Service dalla finalissima di Supercoppa contro l'Olympus Roma Che verrà disputata sabato 10 dicembre al pala Cesaroni di Genzano Con start fissato alle ore 21 in diretta su Sky Sport Se l'Ital Service Pesaro Calcio a 5 fatica a trovare una sua identità L'Ital Service Loreto Basket si è immersa in un percorso fatto solo di vittorie Sul parquet di Ascoli è arrivato l'ottavo successo consecutivo Con il punteggio sulla sirena finale che segnava 83 a 42 a favore degli ospiti L'appetito viene mangiando e i ragazzi di Coach Foglietti Non ne vogliono sapere di interrompere il perfetto ruolino di marcia intrapreso E per farlo bisognerà superare il San Marino nel prossimo impegno in programma Sabato 3 dicembre al Palaflamine alle 21 e 15 Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma rimanete con noi perché tra pochissimo Subito dopo questa edizione del telegiornale, esattamente alle 20 e 10 circa C'è il Natale più a Fano, vi mostreremo in anteprima quali sono le iniziative natalizie Che troverete nella città della fortuna E poi attenzione perché alle 21 e 20 in prima serata invece c'è la nostra diretta con insieme a Canestro Quindi Marco Cadeddu questa sera avrà in studio Umberto Stazzonelli, giocatore della VL E Giovanni Illuminati che è responsabile del settore giovanile Potete partecipare in diretta, fatelo perché partecipando attraverso il numero che vedete nella grafica O commentando la nostra diretta Facebook potrete vincere dei biglietti per le prossime partite Domani torna la rassegna stampa con voi in diretta alle 7.20, ci sarà Daniele Sacchi E sempre nella giornata di domani, vi ricordiamo che alle 17.30 c'è il nostro appuntamento con la lettura Il commento al Vangelo della Domenica, cura di Don Marco Di Giorgio Mentre alle ore 19 una nuova puntata di Spazio Z Questo seguitissimo programma realizzato da Rossini TV In cui Letizia in questa puntata andrà a parlare con i ragazzi del liceo artistico Mengaroni Grazie per averci seguito come sempre, vi auguro buona serata